In questo video ti parlo di ben 11 strumenti che sfruttano l'intelligenza artificiale e che ti lasceranno a bocca aperta. Wow! Ma come sempre, prima di iniziare, ti do il mio personale benvenuto in Automatiking, la prima e unica academy che in Italia e in Europa ti aiuta a mettere il pilota automatico al tuo business se non sai da dove partire. Inizia da qui e inizia gratis dalla nostra newsletter. Ti iscrivi e ricevi appunto gratis ogni settimana ben tre strumenti di automazione che ti aiutano a vendere di più senza stress. Appunto ti raccontavo degli 11 strumenti che ti parlano, che ti aiutano sull'intelligenza artificiale e ti lasciano a bocca aperta. Io direi di andarti a far vedere il primo. Ebbene tutti noi utilizziamo le nostre foto sui nostri social, ma se volessimo fare qualche foto un po' più carino, ecco, questo tipo di strumento tu gli carichi la tua foto, applicano l'intelligenza artificiale, in automatico ci sono degli sfiltri, ci saranno delle grafiche, in automatico ci saranno una serie di azioni che lui dopo averti scontornato la foto con l'intelligenza artificiale e te la farà carinissima, caserissima, carinissima. Davvero ti permette di mettere i filtri, le ombre, il background che sarebbe lo sfondo. In pratica applica l'intelligenza artificiale per rendere la tua foto ancora più figa. Ora, restando sempre in termini di social, diciamo che vogliamo stupire. Tutti noi sui social abbiamo i nostri parenti, i nostri amici, oppure vogliamo animare la foto di quando eravamo al liceo, oppure la foto di una persona, ecco, questo tipo di strumento ti permette di sfruttare l'intelligenza artificiale per animare una tua foto. Potrebbe essere una classica vecchia foto, la foto di famiglia per lasciare stupiti i tuoi parenti, ma anche qualche tuo cliente, ma anche la tua, lo puoi applicare, ripeto, su una tua foto, di una premiazione, di un evento a cui eri partecipe. È uno strumento davvero, davvero interessante, molto, molto efficace, molto, molto, veramente fatto proprio bene e che secondo me darà quel tocco in più. Non solo lascerà te a bocca aperta, ma lascerà anche le persone, i tuoi parenti, i tuoi amici, le persone con cui condividerai il post davvero a bocca aperta. E sempre proseguendo in termini di social, ebbene, magari tutti noi abbiamo dei video che dobbiamo editare perché li dobbiamo pubblicare sui social, sul nostro sito internet e molto spesso la parte di editing è davvero, davvero noiosa. Ebbene, questo strumento tu gli tiri dentro il sito, il tuo video e lui farà in automatico una trascrizione e potrai tramite l'intelligenza artificiale in pratica cancellare delle parole e in base alle parole che cancellerai lui taglierà il video. Te lo ridico, carichi il video, lui in automatico fa la trascrizione, tu vai a cancellare le parole che non ti piacciono e in automatico il video si taglia. Fighissimo, fighissimo, fighissimo per risparmiare una marea di tempo. Se invece vuoi produrre dei video ma partendo da un articolo, da un testo non necessariamente tuo, ebbene c'è il famosissimo Lumen5. Questo strumento ha una serie di template, anche molto, molto carini e molto dinamici, dove tu gli carichi dentro un testo, un articolo, normalmente un link che potrebbe essere tuo o non tuo, editi il testo, editi le immagini, anche qui ci puoi mettere del video e in veramente pochissimi secondi hai fatto un contenuto per i tuoi social e non solo. Di questo, se vuoi approfondire un pochettino come pubblicare e convertire da testo a video e generare contenuti in automatico, ti faccio riferimento a questo sito, a questo corso che abbiamo pubblicato sulla nostra Academy, academy.automatikin.com, che è la nostra Accademia delle Automazioni, che ti aiuterà a approfondire un pochettino i trucchi per, appunto, rendere efficace i tuoi contenuti e generarli in automatico, applicando l'intelligenza artificiale di questi strumenti come Lumen5, liveacademy.automatikin.com, ebbene ti faccio vedere un altro strumento che ti lascerà letteralmente a bocca aperta, perché abbiamo parlato di video e diciamo che vogliamo aggiungere una traccia audio. Ora è vero, amico, amica automatiker, possiamo scaricare una traccia internet da doce pare, ma se volessimo creare noi una traccia audio assolutamente originale, basata e sviluppata dall'intelligenza artificiale per noi, ma soprattutto che possiamo editare per fare in modo che coincida alla perfezione con il video, se vogliamo fare proprio quegli super smanettoni per fare video editing di una certa qualità, per far magari coincidere con un cambio di scena la nostra traccia, magari il nostro video. Ebbene, questo strumento è davvero, davvero carinissimo, perché ti permette di scegliere qui sotto una serie di tracce audio, come per esempio voglio una traccia di tipo chill, la voglio di 3 minuti, la posso volere anche di 30 secondi, la posso volere per esempio, no, come velocità normale vado a dare create, in automatico lui mi sta creando una traccia audio originale, approfitto di questi secondi per dirti che tutti i link del materiale di cui ti sto parlando, ovviamente, li trovi in descrizione, appunto il software sta caricando in pochi secondi, in base a quanti parametri hai scelto e soprattutto la lunghezza che hai scelto, e in questo caso mi ha prodotto una traccia audio. Vediamo questa. Ok, mi può piacere, poi c'è questa. Ok, diciamo che questa mi piace, che però la voglio editare. Vado su edit, ok, e quello che mi fa vedere in questo momento è come l'andamento della mia traccia audio, per esempio io posso aggiungerci dei bassi, quindi... Oppure posso aggiungercene ancora di più. Oppure posso aggiungere una batteria. Oppure no, dico, guarda, questa cosa qui, non mi piace la batteria, voglio mettere solo la batteria, un po' più leggera. E oppure posso... Ok, hai capito che cosa ti permette di fare? Tu puoi scegliere quello che vuoi, ovviamente poi dopo la puoi scaricare, ma puoi partire da una qualsiasi base. Quindi magari, ecco, questa la voglio far iniziare così, solo con una melodia. Guarda, te la faccio sentire senza melodia. Ci metto un po' di melodia. E ci metto tanta melodia. Ehi! Questa traccia l'ha fatta l'intelligenza artificiale. Cioè, è una figata? Aspetta che sennò spengo questa roba, sennò ci mi dà fastidio. Però questa è la potenza di questo sito. Ti faccio vedere un'altra che ti lascerà bocca aperta, perché molto spesso abbiamo bisogno di avere delle immagini un po' più di qualità, un po' più grandi. Ma abbiamo delle immagini così cicchitite, cicchitite, come dicono qui in Spagna. E noi abbiamo bisogno per farne una stampa, magari per mettere su una popertina di un nostro social, di pubblicarla, ma in alta qualità. Ecco, questo strumento utilizza l'intelligenza artificiale, tu gli carichi una o più immagini, addirittura le sincronizziamo, le cariche da Google Drive, e lui te la rende qualitativamente superiore. Questo è molto utile, anche se vogliamo stampare determinate cose. Sfrutta l'intelligenza artificiale per aumentare la dimensione della tua immagine. Molto interessante, se vuoi andare a fare invece della grafica, andare a guardare Hotpot. Hotpot ti permette di fare una serie di attività che sono legate al mondo della grafica, togliere lo sconto, magari adattare un contenuto a un social, insomma è un'alternativa a Canva. Come non conosci Canva? Ebbene, te lo lascio qui in alto, in descrizione, un tutorial dello strumento per fare grafica, secondo me il re del mercato, ma ti lascio anche ad un video sviluppato con Bernardo Mannelli di Tool per Startup, dove parliamo da una parte, resta fino alla fine perché poi ti lascio il link, uno di sette strumenti per fare editing video e l'altro di undici app per fare grafica. Così hai una serie di varianti alternative dove appunto puoi fare sempre attraverso più intelligenza artificiale, attraverso più automazioni, puoi fare video e immagini e grafica di maggiore qualità. Torniamo sul mio computer, appunto ti ho fatto prendere Hotpot, adesso facciamo l'esempio che tu abbia un business, voglia trovare un nome di un prodotto, il nome del tuo business vero e proprio che stai lanciando, vuoi trovare qualcosa di interessante? Ebbene, questo business name generator è davvero, davvero semplicissimo. Metti le keyword e tac, premi su ed è fatta. Cioè è veramente una figata, ma ti faccio vedere, diciamo che una volta che abbiamo ottenuto il nome, noi ci vogliamo fare anche la grafica. Questo strumento è collegato Brandmark, è collegato con Namelix, ed è questo qui Brandmark, che ti permette davvero, davvero, davvero di creare un brand professionale, fatto con un logo davvero carinissimo, fatto anche con una qualità onestamente discreta. Io ho studiato grafica, quindi te lo posso dire, ed è veramente clic, clic, clic e ha ottenuto un logo. Magari non sarà quello perfetto per te, magari lo puoi passare a un grafico, ma c'ha già delle idee. Oppure, se è un progetto pilota, oppure non hai bisogno di niente di così, come dire, incredibilmente complesso, l'hai fatto. Hai fatto il tuo marchio, il tuo logo, grazie all'intelligenza artificiale, in davvero, davvero tre clic. Altro strumento davvero interessante, adesso che abbiamo il logo, e abbiamo l'immagine coordinata, ebbene, perché non facciamo fare all'intelligenza artificiale attraverso Beautiful AI, gli facciamo fare proprio una presentazione per intero, così, proprio per sfizio. Lui ti mette tutta una serie di dati, tu gli metti questi dati, ti permette di sviluppare, appunto, una serie di idee, attraverso una serie di idee che ti offre lo strumento, ti permette di andare a dare valore a quelle che sono le tue presentazioni. Davvero, davvero molto interessante, perché tu, una volta che, ecco, clic e trascini, mi aggiungi, lui autosistema tutto il testo, se di nuovo disconnessa la mia tastiera, ma davvero è uno strumento altamente intuitivo per preparare delle presentazioni che lasceranno i tuoi clienti a bocca aperta. Ultimo video, ma non per importanza, e ti chiedo, ovviamente tutti i link, ti ho già detto che sono in descrizione, ma ti chiedo, magari, se ce n'è qualcun altro che tu conosci, di scrivermelo nei commenti. Ti stavo dicendo, l'ultimo strumento degli undici che ti presento riguarda il copywriting dell'intelligenza artificiale, e cioè, mi dice Stefano, in che senso? È nel senso che tu, attraverso strumenti come Jasper, che fino a qualche tempo fa si chiamava Jarvis, come il noto computer di Iron Man, ti permette di scrivere contenuti di qualsiasi natura per i tuoi video, per le ads di Google, per i tuoi social, per i tuoi articoli, e in generale per il tuo marketing, ti permette di scrivere copy attraverso l'intelligenza artificiale. È davvero molto semplice, tu gli scrivi all'interno dei contenuti, gli puoi mettere delle parole chiave, gli puoi prendere dei testi che sono, per esempio, già scritti, e Jarvis, o Jasper, come si chiama adesso, ti permette di riscriverli. Da una parte, tu puoi scegliere, o scrive lui un contenuto ex novo, oppure tu gli dai un contenuto che hai già scritto, oppure magari che hai copiato da un sito internet, e lui te lo riscrive proteggendolo, anzi, sproteggendolo dal copyright, perché te l'ha riscritto. E scrive bene, e se su questo tipo di strumenti ti interessa approfondire, magari con altri strumenti, sapere magari quello che secondo me è il migliore strumento di copywriting, che sfrutta l'EI, l'intelligenza artificiale, magari me lo scrivi nei commenti, insieme agli strumenti che tu conosci già, me li scrivi, o che vuoi scoprire, me li metti nei commenti, e io e il mio staff saremo più che felici di aiutarti. E allora, spero che questo video ti è piaciuto, se così fosse lasciami un bel like, ma guarda un po', se non solo ti è piaciuto questo video, ma seghiotto, seghiotta di altre automazioni, di altre strategie, altri strumenti che ti aiuteranno a vendere di più senza stress, iscriviti a questo canale, attivando quella che è l'automazione di YouTube. Dici, ma come YouTube ha delle automazioni? E sì, l'automazione di YouTube è la campanella. Tu ti iscrivi, attivi la campanella, e YouTube, ogni volta che pubblicheremo un nuovo video, ti notifica e ti dice appunto che lo puoi andare a guardare. Quindi, detto ciò, io ti saluto come sempre con un abbraccio forte dalle canarie e ti lascio a questi due video, uno sui sette strumenti per l'editing video e l'altro per gli undici strumenti che ti aiuteranno a fare una grafica migliore. Un abbraccio di nuovo forte dalle canarie e buona automazione, ciao!